Non ci sarà alcuna ordinanza di divieto di accesso sulle spiagge di Roseto. Nella notte di Ferragosto il sindaco Sabatino di Girolamo ha deciso di riporre nei giovani la massima fiducia. Nei giorni scorsi sul proprio profilo Facebook il primo cittadino ha scritto un messaggio rivolto ai ragazzi che chiedevano se quest'anno sia possibile trascorrere la notte di Ferragosto come tradizione in spiaggia. I ragazzi infatti amano ritrovarsi attorno ad un falò, cucinare qualche prelibatezza, la brace, ballare e ammirare il cielo nella speranza di intercettare anche qualche stella cadente. Per quanto mi compete non emanerò ordinanze di divieto di accesso sull'arenile, scrive di Girolamo. Voglio avere fiducia in voi e confidare sul vostro senso di responsabilità. Del resto è in gioco la vostra salute personale e quella delle vostre famiglie. Trovandovi in ampi spazi esterni basterà stare alla nota distanza di sicurezza per evitare contagi o indossare la mascherina quando ci si avvicina. I controlli comunque non mancheranno perché il litorale verrà pattugliato dalle interforze composte da guardia costiera, polizia municipale e volontari assistiti dai carabinieri. Transiteranno di continuo sull'arenile, dice ancora il sindaco. Si spera solo per sensibilizzare, non per sanzionare. Il divieto di accesso sulla spiaggia potrebbe però essere imposto dalle autorità superiori, a cominciare dalla prefettura di Teramo, ma al momento non sembrano esserci indicazioni in tal senso. Grazie a tutti.